Con il tecnico dell'Olanda, sconfitta l'esordio contro l'Italia in questo 8 Nations Group ad Ostuni in Puglia, che partita è stata? Cosa ha avuto l'Italia in più dell'Olanda? Il primo match contro l'Italia, qual'era la strategia principale dell'Italia contro voi per permettere loro di rilassare la vittoria? Non conoscendo bene la squadra abbiamo cercato comunque di dare il meglio e giocare al massimo delle nostre capacità, l'Italia comunque è una squadra forte e vedremo, andiamo avanti. Che squadra è quella dell'Olanda? Quale tipo di squadra ha l'Olanda? Sono molto talli e forti, ma bisogna imparare come spiegare il volleybole. Siamo qui in due anni, magari. È la prima volta che giochiamo come gruppo insieme, quindi abbiamo un po' di distanza per andare. È un gruppo forte ma in crescita, ha bisogno di amalgamarsi, quindi probabilmente nei prossimi due anni avremo una squadra molto più solida. Noi continuiamo comunque ad impegnarci e staremo a vedere. Grazie.